Dunque, noi il picco lo immaginiamo secondo le proiezioni degli scienziati e degli esperti. È un picco che si prevede complessivamente per tutto il mezzogiorno d'Italia. Il sistema sanitario, il nostro, non è assolutamente in difficoltà. È un sistema sanitario che ha risposto, devo dire anche con sorpresa per chi vi parla, in maniera davvero impegnata, razionale, come se fosse un vero e proprio gioco di squadra. È chiaro che non eravamo pronti ad una epidemia di queste dimensioni ed è per questo che ci stiamo attrezzando. Mi consenta di ringraziarlo questo personale medico e paramedico. Come voglio ringraziare tutti i volontari che stanno nei punti di arrivo, negli aeroporti, dell'isola, sullo stretto di Messina, il corpo forestale della regione, per identificare la gente, per scoraggiare, per diventare deterrente. Stiamo collaborando con tutti i 390 sindaci dell'isola che si trovano di fronte a mille domande alle quali non sempre si sa e si può rispondere per ovvie ragioni, a cominciare da chi vi parla. Voglio ringraziare i nove prefetti dell'isola e quest'ora, insomma, c'è veramente una mobilizzazione delle forze dell'ordine ed è per non vanificare questo sforzo globale che noi abbiamo dovuto adottare questa ulteriore misura restrittiva. Meglio soffrire 15 giorni che dover soffrire poi per mesi e mesi. Assolutamente sì. Sottosegretario Barretta, arrivo.